Quale Basilicata si presenta alla più importante fiera del turismo italiano? Alla B di Milano, in svolgimento proprio in questi giorni, e mostra per i buyer nazionali e internazionali un'offerta turistica più completa e strutturata da parte della nostra regione. Con 37 operatori presenti alla Kermes, la Basilicata cambia il suo approccio alla Borsa del Turismo Internazionale, grazie ad una presenza business-oriented, come ha sottolineato il direttore dell'APT Gian Piero Peria, alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Potenza nella Sala Verrastro della regione. Insieme a lui l'assessore alle attività produttive Raffaele Liberali e Salvatore Aduce, sindaco di Matera, città che da anni gioca la parte del leone nel turismo made in Basilicata. In vetrina dunque lo spettacolo chiamato Basilicata, dal fortunato brand Cost to Cost ai paesaggi d'autore al turismo cinematografico con alle porte i prossimi 50 anni del passoliniano Vangelo II Matteo, girato proprio a Matera, alla musica ambasciatrice dell'Etnos Lucano, alle fortune del presepe lucano di Artese, che ambisce ad arrivare a New York, un progetto seguito personalmente dal presidente Pittella, non presente in conferenza stampa, perché impegnato ad ascoltare le repliche al suo discorso programmatico in consiglio regionale. Nella grande mela è già arrivato invece il film di Fran Martino, in proiezione loop al MoMA di New York, dedicato alla maschera antropomorfa del rumito di Satriano di Lucania. Accanto a questi eventi, ha spiegato Perri, ci sono le new entry, come gli eventi che ruotano intorno alla magia di Colobraro, che affiancheranno l'ambizioso progetto di Matera, capitale della cultura 2019. Progetto di cui ha parlato il sindaco a Duce, spiegando che l'offerta di una città che si candida a questo traguardo non può puntare ad eventi di massa, ma a quella richiesta di turismo più squisitamente culturale. Chi ha snocciolato numeri positivi è stato l'amministratore della società che gestisce il volo dell'angelo Nicola Valluzzi. I numeri più significativi vengono in questo caso proprio dal web. La piattaforma online che gestisce l'evento ha totalizzato nell'ultimo anno e mezzo un milione e 300 mila visitatori unici e il 63% dell'incasso viene ormai dalle prenotazioni via web che giungono dal Brasile, dall'Australia e dal nord Europa. Un posto importante spetta poi alla Basilicata dei Parchi Naturali, la cui offerta turistica è stata presentata dal coordinatore di Federparchi Basilicata e presidente del Parco dell'Appennino Lucano, Domenico Totaro. La forte spinta che al comparto turistico può venire dal patrimonio di biodiversità di cui dispone la regione è, secondo Totaro, il contributo principale dei parchi alla causa del turismo. Parchi che, in linea con la strategia regionale, hanno deciso quest'anno di affidare la propria offerta turistica agli operatori del settore, che ai buyers presenti alla Kermes porteranno servizi realmente funzionanti. Guide, centri di educazione ambientale, sentieri e indicazioni appropriate. Quanto al Parco dell'Appennino Lucano, si punta sull'archeologia, con un pacchetto che unisce Grumento, Armento e Satriano, e sull'enogastronomia, grazie alla mappa dei sapori realizzata in collaborazione con gli albergatori. In chiusura, l'assessore Liberali ha sottolineato la necessità di diversificare l'offerta turistica per avere risultati più duraturi e, secondo il suo giudizio, Matera 2019 può essere l'elemento trainante di tutto il comparto. Mentre, dai padiglioni della Biti, il presidente Pittella manda ai Lucani la sua cartolina beneaugurante, in una sorridente posa, insieme a Vittorio Sgarbi.